Siamo ormai in piena stagione autunnale, le scuole sono iniziate da qualche settimana, i contagi sono ripresi, come ve lo spiegate? Questa era una cosa abbastanza prevedibile, ce lo aspettavamo che con il ritorno della stagione autunnale, invernale, i contagi potevano reaumentare, come infatti abbiamo visto che è avvenuto e sta avvenendo. Quindi chiaramente il clima più freddo, la riapertura delle scuole, quindi tutta una serie di fattori che facilitano la circolazione virale. In provincia di Arezzo, ma comunque nell'ASL Toscana Sud-Est, i dati sono in linea con il dato nazionale o sono invece in controtendenza? No, sono in linea per quanto riguarda l'incremento dei contagi, abbiamo avuto 168 casi soltanto nella giornata di ieri, l'incidenza, quindi il numero di casi per 100.000 abitanti è quasi raddoppiato dalla settimana precedente, quindi siamo in linea con l'aumento che abbiamo a livello nazionale. Non abbiamo al momento, per fortuna, un aumento corrispondente nel numero dei ricoveri in terapia intensiva. Parlando di vaccino, ci sono alcune categorie che devono ancora effettuare la quarta dose anti-Covid e poi c'è alle porte anche la vaccinazione anti-influenzale. Quali sono le indicazioni? Sì, la quarta dose da domani viene estesa a tutta la popolazione che ha più di 12 anni e a chi ancora non l'ha fatta, ovviamente dando la priorità ai soggetti anziani e ai soggetti fragili, quindi chi ha delle patologie concomitanti. Ha estesa agli operatori sanitari, alle donne in gravidanza e a tutti gli ospiti delle RSA. Fra poco partirà anche la campagna per la vaccinazione contro l'influenza, partirà proprio il 14 ottobre e è raccomandato per chi non ha fatto ancora la quarta dose e deve fare la vaccinazione anti-influenzale, di farla contemporaneamente. Questi ultimi due anni ci siamo tanto concentrati davvero solo sul Covid, ma l'influenza stagionale, soprattutto per chi ha patologie, insomma rimane un pericolo importante? Assolutamente, l'influenza ogni anno fa numerosissime vittime, soprattutto nelle persone anziane, nelle persone con patologia, per cui non va assolutamente sottovalutata. È molto importante oltre la vaccinazione l'uso delle mascherine, che ovviamente protegge non solo dal Covid, ma da tutte le malattie infettive che si trasmettono per via respiratoria, compresa l'influenza.